Sono Stefano Gallo, sono uno storico. Siamo alla Romagna, siamo sopra Molina di Cuosa, sul Monte Pisano, in questo luogo che è un sacrario, che ricorda l'eccidio della Romagna dell'11 agosto del 1944. Perché è qui? Non perché qui è successo l'evento luttuoso, qui non sono state uccise le 69 persone che vengono ricordate dalle lapide che sono qui sotto, ma perché qui c'è stato il rastrellamento. La notte tra il 5 e il 6 agosto del 1944, due squadre tedesche, DSS, naziste, sono salite dalla valle, una squadra da Molina e l'altra da Ripafratta, passando da Rupecave, per rastrellare tutta quest'area del monte. Quest'area del monte oggi è un luogo di pace, è un luogo dove si viene a fare castagne, a fare passeggiate, ma durante la guerra, in quell'estate del 1944, quando questo territorio era bombardato, era quotidianamente oggetto di bombardamenti e cannoneggiamenti da parte delle truppe alleate, che stavano risalendo la penisola, qui si sono rifugiate centinaia e centinaia di famiglie, perché in questo luogo c'era protezione. Da un punto di vista proprio della conformazione del luogo, qui si rischiava di essere sottoposti, colpiti dai cannoni americani, che erano a sud, erano nelle colline pisane e stavano risalendo. Alla fine di luglio la situazione era estremamente complessa, siamo nel luglio del 1944 e la situazione era estremamente complessa. Immaginate l'esercito nazista che sta risalendo, che si sta scompaginando, e quindi un esercito in dissoluzione che è ancora meno controllabile, i gerarchi fascisti che scappano tutti verso il nord, e la popolazione che non ha più nessun riferimento di autorità che le possa aiutare si auto-organizza e si rifugia laddove crede di trovare salvezza. Proprio alla fine di luglio, in questa situazione così disastrata, si affacciano delle prime azioni partigiane un po' più consistenti, non tanto in quest'area ma nella parte di Asciano, sopra Asciano. Qui pure si vedono, si fanno vedere dei partigiani e l'insieme di queste cose fa sì appunto che i tedeschi a un certo punto decidano di emanare un bando in cui impongono agli uomini di consegnarsi ai tedeschi. Questo succede alla fine di luglio, danno pochi giorni alle famiglie che erano qui per consegnare tutti gli uomini perché non vogliono assolutamente nessun tipo di problema in quest'area. A questo punto procedono nella notte tra il 5 e il 6 a fare questo rastrellamento. Avviene di notte, avviene con i cani, avviene sparando i bengala che illuminano la situazione, avviene con l'aiuto anche di fascisti italiani che fanno da traduttori e li guidano e proprio in quest'area, tutta in questa zona qui svegliano le persone, le ammassano in località Focetta qui sotto e appunto molti uomini riescono a fuggire, tre uomini sono uccisi col fucile, con i mitra mentre scappano, sono tre scritti dei 69 scritti qui nelle lapidi e una volta raggruppate tutte le persone si iniziano a chiedere dove sono i partigiani. Livia Cereschi, come sappiamo, conosciamo questa figura, sapeva il tedesco e fa da interlocutrice con i comandanti, spiega che quelle sono solo famiglie che stanno aspettando la fine della guerra e probabilmente grazie a questa sua intercessione riesce a convincere e a lasciare stare le donne e i bambini. Vengono presi tutti gli uomini, vengono portati giù a Ripafratta e nella piazza di Ripafratta lì viene fatta una divisione tra chi era disponibile ad andare a lavorare per i tedeschi, quindi nei campi di lavoro verso nord e verso le Apuane dove si stava fortificando la linea gotica e chi invece per problemi di salute, malattia o vecchiaia si dichiara inabile al lavoro. Questi vengono portati nella scuola di Nozzano verso Lucca, finché l'11 agosto i tedeschi decidono di liberare le aule adibite a prigione e a gruppetti, prima di 4-5 e poi a gruppi più grandi perché vogliono fili nella giornata tutta l'operazione, portano i prigionieri in qualche chilometro distante da Nozzano e li uccidono fucinandoli. E questo è un messaggio che i tedeschi vogliono dare alle popolazioni, obbedite, non fate alcun atto contro di noi, vengono lasciati cartelli sui luoghi dove sono state fatte le uccisioni, questi erano partigiani, non erano partigiani e ovviamente questo lo sappiamo, erano solo persone che cercavano un rifugio e la fine della guerra. Quindi qui appunto ogni anno ricordiamo la strage della Romagna, anche se la strage non avviene qui, ma avviene in varie località tra Nozzano, Massarosa, eccetera, nell'area intorno a Nozzano, ma qui appunto ricordiamo questo evento, questo evento tragico che ha funestato la nostra comunità. Purtroppo la strage della Romagna appunto è la prima di una serie di terribili eventi che la stessa divisione compie nell'arco appunto degli Appennini, partendo da qui e arrivando fino all'area del Bolognese, che si inseriscono in una situazione di stragi ancora più vasta, la Toscana ha subito moltissimo questa scelta scellerata dell'esercito tedesco di compiere stragi di civili per poter avere mano libera nelle operazioni di ritiro e di risalita della penisola.